Questa è una donazione che la nostra zona, quattro club della nostra zona, quindi il club Lions Host di La Spezia, il club Ceparana, il club Sarzana, il club degli Ulivi, ha voluto fare a Caritas raccogliendo un'iniziativa che il nostro distretto ha voluto diffondere praticamente in tutte le zone relativamente alla necessità di un supporto alle famiglie bisognose in questo periodo particolarmente critico legato alla pandemia. Quindi abbiamo accolto questa richiesta regalando due frigoriferi contenitori a pozzetto che sono stati collocati sia alla Spezia che a Sarzana per poter conservare quei cibi che non sono solo a lunga conservazione ma sono facilmente degradabili e quindi hanno la necessità di essere conservati in un ambiente idoneo. Desidero ringraziare davvero di cuore il Lions Club perché da sempre ci permette di poter realizzare tante cose belle e dire questa frase oggi la decliniamo proprio in un qualcosa di concreto che ci permette di offrire una risposta ancora più dignitosa e più attenta alla persona attraverso anche la dimensione del fresco che appunto nella spesa solidale che offre l'Emporio permette anche di poter avere generi che prima non avevamo. Quindi questo per noi è un gran risultato e è un momento in cui c'è bisogno di carezze direi, un tempo in cui c'è bisogno di attenzioni ma e le carezze e le attenzioni oltre all'aspetto bello del termine qua diventano cose concrete. E questo è quello che in questo momento ci permette anche di regalare un po' di speranza. Si registrano dei trend ormai purtroppo consolidati di un aumento costante di persone che vanno a incrementare le cosiddette fasce deboli cioè coloro che sono sempre più esposti sia alle difficoltà economiche tra virgolette ordinarie acuite ovviamente da ormai da un anno a questa parte dalla condizione di pandemia che affligge il paese. Noi registriamo già dall'inizio di quest'anno un progressivo, un costante direi aumento delle famiglie. Siamo già in questi primi mesi a oltre 450 tessere attive presso i nostri servizi di Emporio della Spezia di Sarzana e continua il trend di aumento delle famiglie italiane che ricorrono a sussidi, che ricorrono aiuti, che ricorrono appunto anche al servizio dell'Emporio. Grazie. Grazie. Grazie.